Stasera finalmente abbiamo vinto dopo tanto tempo, rispetto all'andata che la sconfitta con loro 3-0 ha iniziato un po' il nostro declino, la speranza è che magari questa vittoria ci riporti su un po' con il morale e soprattutto ci dia un po' di sicurezza e stabilità e motiva mentre giochiamo. La partita è stata una partita molto strana, spezzata in due fasi, la prima fase dove loro battevano gran bene e noi eravamo sempre in ritardo sulle palle, in ricezione non uscivamo ad attivare i primi tempi e i primi due set sono nati via sull'orlo della battuta ricezione per loro. Il terzo set ho cercato un po' di reazione da parte delle ragazze, ci ha aiutato un po' il Vila Nuova perché è partito con il secondo palleggio e il secondo posto e lì loro probabilmente non erano molto sicure. I nostri ragazzi sono entrati un po' più convinte, soprattutto più determinate e cattive e devo dire che da lì in poi è cambiato un po' nel senso che poi riuscendo a vincere il set abbiamo anche in fiducia e il quarto set è partito sulla scia di questa vittoria del terzo set. Il quinto set siamo partiti molto bene, abbiamo cambiato mi pare sull'8-4 e poi lì ci siamo fermati perché loro sono andati 9-8, poi sono andati via un po' punto a punto, sono andati un po' i vantaggi e lì mi sono piaciute perché comunque sono sempre state determinate, hanno battuto per fare punto e in effetti poi abbiamo chiuso il set con un ace di piantoni. Quindi tutto sommato posso essere soddisfatto, anzi direi molto soddisfatto per la reazione che hanno avuto e spero soltanto che non sia una casualità ma che sia l'inizio che è di una convinzione che con il campionato qui ce lo possiamo giocare.